. Ringamento perfetto per quello che ho fatto qui in giornata, il successo di una prova ottima R al dia, si ritrae Rocco Flori, si nutta a tre per il comando lo Dreams, Red Fork, TRGS, Renoir B che sembra poter prevalere, lo scatto esterno da Lio di Robin Draghetti, ancora una volta per il momento, protagonista il pomeriggio, ha lasciato a Trelinghezza, Redsorti e Algezza, si vado a Lorenzo Beccano al posto di Massimo Castaldo, gruppo sia fissi di Finiliana, tra il primo e l'ultimo 60 metri, lancio in 14 spaccato, a Rodriguez in terza produzione, poi Rambo Balbai che sta da lui riportare sotto gli altri, 27-9, quarto di altissima classe da parte del figlio di Tossautio che adesso può graduare, dopo 500 metri, Andrejetti diceva l'allentamento, si è accorso in breve alle spalle del Lido che comunque fa 43 scarsi, sta rientrando in fondo anche il 4 di Real di Viene che ha avuto problemi all'ultimo Rocco Fiori, preseduto nella risalita anche da Ramirez Bic, non l'abbandonava il seccato sull'allentamento, forse da fare un desorantissimo su Rocco, intanto Renordi arriva in notevole rallentamento al quarto di mezzo miglio, a 32,5 di frazione, guida sempre su Redford e Rodi Grinch, le prime tre posizioni sono cambiate, poi sono un po' sportellate dietro, intanto si vinco la Ramirez B, ma Renordi arriva al chilometro in 6,1 virgola, posizioni sempre invariate, Rambo Balbai in quarta posizione in corda, subisce l'avanzata esterna di Ramirez B, che è la farò il fin di vista con convinzione in avanti, gruppo abbastanza coppato, però adesso riprende ad andare a mille, scatta di nuovo il leader, 31 e la terza versione, vi guadagna una comoda di margine, Redfordi è regista in seconda posizione, con Ramirez richiesto in maniera impegnativa di fuori, poi ancora Rodrins e gli altri, che non sono per il momento un fattore in corsa, 14,8 di ultima curva, Renordi però è sempre approvato, c'è l'attacco di Ramirez, in seguito al quale farò il più educato con grande convinzione, Ramirez B nel tratto inclusivo viene ad ampliare il suo margine, mentre per il secondo posizione...